a dentro sul secondo palo la controlla parigi scaro per fantastico marzo presto bravo inizia che numero maisto maisto che gollo che gollo colzare il vino buono il vino non ha giornata in serie B si affrontano bunga bunga contro il po' e ma a giornata in serie B si affrontano bunga bunga contro i programa ma Quest'ultima squadra in vantaggio di 2-0 Quando siamo nel primo tempo del match E Vitiello serve per Fiorillo Fiorillo lotta sull'out contro Masiello Ancora Vitiello Trova un rimbalzo Masiello chiede il fallo di mano Che non c'è Ferreo Il nostro dottor Prodomo Quasi dottor Prodomo Resta laterale per i paramamà Esposito La larga a destra ma non c'è nessun compagno Beh registrato tra le figlie di Bunga Bunga L'innesto Giovanni Sorrentino Che sta dando un contributo Alla squadra In maglia verde Sarà l'innesso laterale Schiavone Esposito, imperioso, stacca Cerca un compagno ma Ancora i paramamà in avanti Perdono la palla C'è Nani a metterci una pezza Sarà l'innesso laterale Ancora i paramamà Cercare Tescione Tescione recupera palla Da dietro ancora lo stop di Esposito Ma serve Schiavone Ancora Cafasso Va a rilancio Serve Sorrentino Arriva Fiorillo di gran carriera Ancora Sorrentino Sorrentino a fronte Esposito Perde la palla Ancora Tescione Tescione alimentazione Paramamà cercato un barco Non riesce a trovare L'imbucata vincente Ripartono i bunga bunga Ancora cercato Sorrentino Masiello allarga per Schiavone Schiavone difende Palla sulla sinistra Diagonale Non impensirisce Capasso Sarà corner Va Sorrentino Dentro C'è stata la deviazione Sarà ancora calcio d'angolo Ancora Giovanni Sorrentino Ripartono i paramamà Con Vitiello Sulla sinistra Galoppa Vitiello Un rimparlo lo favorisce Mentre Ancora bunga bunga Perde una palla E che ci faccio? Ma la stai avviando la palla Cazzo vuoi? Cafasso Rilancio Schiavone Di spalla Spalla Ancora Schiavone Il numero va sulla sinistra Schiavone Fiorillo Arriva di gran carriera Ma il fallo è la precedente L'ultimissima azione Prima di Interrompere il collegamento Scaccio di posizione Sarà da battere Più dietro Il fallo Cominciava Prima Va Capoga Masiello Alla battuta Sistema il pallone Ancora Masiello Prende la rincorsa Vediamo Masiello Caffasso Calcio d'angolo Sul punteggio di 2-0 Interrompiamo il nostro collegamento Siamo con Ritil Desposito E De Falco Migliori in campo Della vittoria Vinta Conseguita per 3-2 Pronto in bunga bunga Ragazzi Il peggioro in campo Secondo me è stato Sorrentino Che non ha disputato Una grande partita Noi Li abbiamo surclassati Alla fine abbiamo vinto Questo match di giudo Nonostante molte polemiche Soprattutto con Danilo Di Taken 2 E quindi dopo questa Vittoria che è da morale Il vostro obiettivo qual è? Non incontrare più Danilo Merdo No 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 Il nostro obiettivo è No Giocare le partite del partito Non vi ho venuto obiettivi Questa vittoria La dedichiamo al nostro capitano Che oggi era assente Gargiulo Speriamo che la prossima Ritorna Deppi invece in Serie A Quando ve lo farai un punto? In Serie A L'abbiamo fatto un punto Tre punti Quanti farei? Eh si spera lunedì prossimo Nel match con Danilo Quindi derby Danilo con uno di Mazzano Altra occasione per Esattamente Va benissimo ragazzi Grazie Grazie